Papa, io ti amo Papa, benvenuto Papa. E fu proprio attraverso l'ospitalità, tratto distintivo di queste terre, che avranno ricevette la visita di Dio e il dono ormai inasperato di un figlio. Noi, fratelli e sorelle di diverse religioni, ci stiamo trovati qui a casa e da qui insieme vogliamo impegnarci perché si realizza il sogno di Dio, che la famiglia umana diventi ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli che guardano il medesimo cielo, cammini in pace sulla stessa terra.